buongiorno a tutti sono mitico mickey46 benvenuto a nuovo live con fileguys è un attento non ci vediamo eh potete venire in riconnessione buona con ditta e qua ed è la eccoci qua vabbè ricominciamo grazie si carica ciao ok scarica ok ok oh e o Sì, 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 sì. Eh, la prima condizione è sempre lunga. Va bene, sentiamo la cam. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Woohoo! Giochiamo a giocosti pioneri! A presto! Per il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.